Ciao, creatura. Io sono Ecate Splendente e benvenuta o bentornata nel regno di Guzai ASMR. E niente, scrocchio sempre. Sono stati richiesti dei cheat chat, quindi oggi con questa faccia senza makeup e questa felpa farò ben due cheat chat separati ovviamente. E quindi mettiti comoda, creatura, perché dovrai solo ascoltare la mia voce, quindi infilati il tuo pigiamone preferito. Se vuoi fare pausa del video, preparati. Una calda, calda, calda tisana. Io ho questa qui. Cioè c'è davvero, non è che faccio finta, che secondo me alcuni nei video fanno finta di averla. Tisana ai frutti rossi di Lidl, ma la tazza di Aldi. Top. Best fusione. Così ci beviamo insieme una bella tisana calda, bullente. Beh, non troppo. E ti racconto perché ho da raccontarti delle cose. Intanto avrei letto dal titolo. Ti parlo della mia esperienza al giorno di Halloween, che è stata veramente indescrivibile, si può dire. Ancora adesso non so cosa sia successo, ma forse qualcuno di voi potrà aiutarmi a capirlo. Ho trovato questo annuncio di questo evento ancora a inizio ottobre di questo Psycho Halloween, dove in un palazzo del mio paese avrebbero fatto un palazzo molto importante, una specie di villa, un palazzo di ricconi che io non sono mai entrata. Quindi, in questo palazzo, perché di solito ci fanno degli eventi tipo matrimoni, così così, ecco. Degli eventi importanti, speciali. Non riesco a dirlo senza dirlo male. Non riesco a dirlo seriamente. La mia voglia di entrare in questo palazzo era, però è ancora rimasta a livelli proprio super sonici perché mi piace vedere i palazzi antichi di ricconi e anche i loro giardini fantastici da filmur. E quindi, perché sembrano inverosimili, ho visto altre ville, tra virgolette visto, so che esistono delle altre ville nel mio paese di ricconi e ho visto solo su Google Maps, tipo i giardini, le foto, così. E devo assolutamente riuscire ad entrare anche lì, ma questa è un'altra storia. Comunque, in questo palazzo antico del mio paese avrebbero fatto questo evento di nome Psycho Halloween. E bisognava acquistare la pre-vendita del biglietto, insomma, per partecipare. E la premessa era questa della Leggo. La descrizione dell'evento. L'esperienza teatrale interattiva che ti trascinerà nell'oscurità. Preparati a vivere un Halloween come mai prima d'ora. Psycho Halloween ti aspetta nelle maestose timore storiche d'Italia, dove l'orrore ti circonterà e sarai tu a decidere il corso degli eventi. In questa esperienza teatrale interattiva, sei il protagonista e le tue decisioni influenzeranno il destino degli spettri. E forse anche il tuo. Non stai assistendo a uno spettacolo, lo stai vivendo. Io già mi vedevo proiettata nel film di Rob Zombie 31 per dirti, no, oh mio Dio, devo andarci. Le anime tormentate di queste sale ti racconteranno le loro storie attraverso uno storytelling inquietante. Sta a te decidere come interagire. La tua compassione potrebbe salvare o condannare. E non tutte le scelte ti porteranno alla salvezza. Perché non puoi perdere Psycho Halloween. Uno è esclusività e unicità. Un evento immersivo e terrificante nelle più affascinanti dimore storiche d'Italia. Due, spazio all'interattività. Le tue decisioni influenzeranno la storia e il destino delle anime tannate. Tre, storytelling coinvolgente. Ogni personaggio ha una storia macabra e misteriosa. Le tue scelte ne determineranno il destino. Quattro, tensione costante. Ogni incontro sarà carico di tensione. Riuscirai a trovare la via d'uscita. Cinque, impatto emotivo e psicologico. La vera sfida è affrontare le tue paure più profonde. Sei partecipazione di gruppo o individuale. Porta amici, ma ricorda che il terrore personale sarei al fianco di un youtuber. E questa è stata anche l'idea che mi ha fatto dire no, vabbè, devo partecipare. Perché la storia girava intorno a questo youtuber che era in cerca di riscatto. Che vuole dimostrare che questa volta ha davvero scoperto qualcosa di straordinario. Il suo pubblico sarà testimone delle presenze che infestano queste mura. Attenzione, l'oscurità non perdona. Riuscirai a trovare la via d'uscita o diventerai parte di queste leggende. Io ho letto, ho detto, ma io voglio restare dentro. Cioè, voglio diventare leggenda dentro alla villa dei ricconi. Fatemi entrare o non fatemi più uscire. Durata 70 minuti. Poi c'erano dei turni. E poi, in base a quando acquistavi i biglietti, potevi, cioè, pagavi di meno. Fino al 9 ottobre pagavi 13 euro e poi via via, fino ai 25 euro, una cosa del genere. Che poi in realtà ho pagato 15 perché c'erano 2 euro di prevendita. Però, vabbè, ho detto, non fanno mai niente al mio paese. Sembra una volta che fanno qualcosa in tema anche Halloween. Anche se dopo, nella serata, ci sarebbe stato... Avrebbero suonato delle band in un locale. Però ho detto, cavolo, se io faccio il turno delle 20 e 30, dura 70 minuti e poi ce la faccio ad andare verso le 9 e mezza a suonare. Poi, in realtà, hanno suonato alle 10, però, vabbè, per dire. Perché poi dopo sono andata anche al locale a sentire le band, però... Cioè, tu cosa avresti fatto? Io subito sarei andata. Infatti ho comprato il biglietto con l'intenzione di andarci da sua. Perché, appunto, vabbè, a parte che io non aspetto i comodi di nessuno. Ma poi... Mi sembrava una cosa anche per uscire dalla comfort zone. Perché sto facendo molte cose per... Lo sai, già da tanto che faccio... È un periodo abbastanza lungo della mia vita nel quale io faccio cose per uscire dalla comfort zone. E quindi questa mi sembrava un'esperienza perfetta per questo caso, no? Allora, ti racconto... Ti racconto com'è andata. Allora, intanto la... Qui non c'è la storia. Era che c'era scritto proprio sul sito di Goevent dove ho acquistato il biglietto. Dove è l'unico sito dove si poteva acquistare il biglietto. C'era questa storia Dove pensavo anticipasse un po' per invogliarti, no? A comprare il biglietto. La storia di questo youtuber, questo, questa... Davano il maschile, poi dopo... In realtà era una donna, ma vabbè. Un po' alla Gianmarco Sagato. Infatti io mi aspettavo un Gianmarco Sagato che era stato scamato, diciamo, a fare dei video non molto veritieri sui fantasmi e quindi aveva perso dei follower e delle visual, eccetera, eccetera. E quindi per riscattarsi il giorno di Halloween sarebbe andato in questa villa e tu sei stato da testimone, no? Tu, creatura, e tu e io, chi che acquistava il biglietto, avrebbe fatto da testimone a questo youtuber? Ovviamente tutto vinto. C'è anche la storia di Vince. Lo so perché era una compagnia teatrale, però mi piaceva comunque l'idea perché c'era uno youtuber e io facendo video su YouTube, al di là che sono un artista ASMR, però facendo video su YouTube mi sentivo proprio immersa nella storia, ecco. Non faccio video sui fantasmi anche se tempo fa ho fatto quella serie horror che però ho interrotto perché le persone erano troppo inquietate, era talmente realistica. Cioè io che l'ho fatta apposta, finta, la gente mi ha preso sul serio e poi c'è chi le fa che la gente creda che sia vero o magari sono palesemente finte, non so, ecco. Ma va bene. Ti racconto appunto come si è svolta sta cosa. Poi mia sorella, l'ultimo, è riuscita a liberarsi e ha acquistato anche dei biglietti per lei e per il suo ragazzo perché quando gli ho raccontato che sarei andata di da sola e che, boh, mi aspettavo che fosse qualcosa tipo la 31 perché, ok, non ci sarebbe stato un combattimento tra... per la sopravvivenza della mia vita, purtroppo, però... No, scherzo. Però comunque un'esperienza teatrale interattiva già sembrava una cosa super figa, no? Che, insomma, anche dalle foto del sito dell'evento c'era questa atmosfera Halloween, questa villa tutta decorata a tema, questi attori con questi vestiti bellissimi, ottocenteschi, questi spettri. Ah, e poi c'era sempre sul sito oltre alla storia della youtuber, dello youtuber, c'era anche, diciamo, lo spoiler, ecco, io pensavo fossero degli esempi di questi tre fantasmi, ovvero uno che era... che aveva problemi con il gioco d'azzardo e poi fanno capire che, insomma, l'ha fatta finita e poi un bambino di un'attosi defunto che a me gli horror con i bambini mi fanno paurissima e poi c'era una sposa che ci sta comunque come storia perché di solito sì, anche quando abbiamo letto quello libro sui misteri del Veneto c'erano dei personaggi così, insomma, c'era scritto che anche se si andava in gruppo l'esperienza sarebbe stata singola quindi ho detto vabbè dai andiamo insieme hanno acquistato il biglietto del mio stesso turno e ho pensato anche di acquistare il biglietto del primo turno perché così ho immaginato che gli attori sarebbero stati tipo più meno stanchi di interpretare il solito ruolo perché poi ho pensato con tutti gli altri turni e c'era anche il giorno dopo e ho pensato magari già il secondo turno uno un po' meno motivato a ripetere sempre le stesse cose e magari il primo turno è più arzillo e quindi ho prenotato il primo turno sia perché combaciava anche con gli orari poi della serata per le band e ho fatto questi pensieri insomma e vabbè insomma siamo andati prima a fare aperitivo avevo già mangiato comunque qualcosa a casa perché sapevo che poi non avrei mangiato altro e non mi va di bere alcolici a stomaco vuoto perché non volevo rovinarmi la serata stando male giustamente quindi ho mangiato qualcosa a casa poi sono andata a fare aperitivo e in piazza nel centro del paese stavano facendo comunque tipo dolcetto e scherzetto con i bimbi che entravano nei negozi a a chiedere le caramelle anche in farmacia distribuivano caramelle bambini è stato molto carino perché mi ricordo il mio paese tempo fa era vietato Halloween e se i negozi c'era qualche negozio un po' così che usava mettere delle decorazioni a tema veniva proprio ecco e quindi veniva visto male ecco diciamo così invece adesso si sono evoluti finalmente nel 2024 era ora e hanno creato anche questa festa per i bimbi vabbè quindi facciamo aperitivo poi finalmente andiamo lì arriviamo in anticipo ma io ho pensato visto che arriviamo in anticipo è meglio arrivare sempre in anticipo io sono così perché se c'è tanta gente non sapevo quanta gente ci sarebbe stata quindi ho detto vabbè si devono ora che controllano i biglietti così e siamo arrivati e comunque è arrivata anche subito dopo tanta altra gente per partecipare all'evento dalla porta ad una porta diciamo così tipo del garage anche se lì non c'è il garage è l'entrata diciamo del parco di questa villa che io non sapevo a essere un parco perché vedevo solo sta villona gigante e le mura e non si vede al di là come tutte le altre ville che ci sono nel paese hanno queste mura giganti tu non vedi devi andare su google a cercare e e quindi sono siamo entrati appunto da da un lato ecco dove c'era questa questo giardino con una fontana e c'era buio e quindi perché erano le nove e mezza quindi non non si vedeva nulla purtroppo io avrei voluto fare un giro anche se c'era una strana nebbia che era solo lì quindi non capivo se c'era qualche macchina del fumo oppure se lì con il giardino creava magari un po' di condensa con la fontana e quindi oh 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 già partiamo con l'horror la nebbia solo lì e d'altre fuori strada non c'era e ci ha guardato i biglietti e ci ha fatto entrare c'era un ragazzo e la villa non era per nulla all'interno addobbata non c'era nulla niente di horror niente di Halloween manca una candela c'era solo un un vestito tipo da sposa insanguinato sopra a un appoggiato semplicemente appoggiato sopra a un pianoforte però mi aspettavo magari delle candele non lo so delle ragnatele finte ragni finti qualcosa niente e già lì vabbè però già la villa era talmente bella che anche se ho visto poche stanze però che già dava tutta l'atmosfera diciamo che potevo anche accontentarmi ecco e intanto lo youtuber era una youtuber era una statipa che tra l'altro aveva una faccia che io l'ho già vista anche se in questo periodo tutte le persone che vedo mi sembra già di conoscerle non so perché in quale universo ho switchato stavolta nell'universo dove ogni persona che vedo io mi sembra già di conoscerla quindi è strano e sai che io sono una persona che osservo molto quindi ho notato appunto solo questo vestito sopra questo pianoforte e nient'altro questo ragazzo fa un po' un'introduzione di quali sono le regole di questo tra virgolette gioco di quella serata e in pratica giustamente bisognava stare attenti a non toccare niente non rovinare niente della villa giustamente però poi dopo ti dico e e poi non bisognava guardare i fantasmi negli occhi perché non si sa cosa sarebbe successo ma era tipo vietato guardare i fantasmi negli occhi tra l'altro io mi ero truccata mi ero fatta una specie di costume alla date di American Horror Story Murder House e poi in bar avevo truccato mia sorella e il suo ragazzo mia sorella ha voluto un make up tipo del corvo quello il primo corvo quello con Brandon Lee e e invece il ragazzo di mia sorella ha voluto un make up tipo di di una band black metal e quindi perché sul sito appunto c'era scritto che non era obbligatorio truccarsi o vestirsi da lui però se l'avessimo fatto avrebbe reso tutta la situazione più più bella insomma più coinvolgente e quindi noi siamo andati lì leggendo questa cosa pensando che anche gli altri invece nessun altro non l'avessi detto vabbè tra l'altro quando la tipa mi ha visto mi ha detto davanti a tutti bel make up e io volevo fare una battuta però volevo dire quale make up però ho detto vabbè gli ho detto solo grazie perché non volevo subito farmi riconoscere anche se forse col senno di poi avrei potuto rendere la serata molto più interessante però vabbè dai sono rimasta umile è successo appunto che hanno dato queste semplici regole e poi ci hanno divisi in due gruppi il primo gruppo è andato con il ragazzo che tra l'altro era vestito sembrava in pigiama con una filpetta un paio di pantaloni semplici cioè mi aspettavo un po' più e lei uguale era vestita normalmente però lei era la youtuber poteva farsi un make up un po' più carino no? niente se volevo potevo truccarla io ma vabbè lasciamo perdere a me è capitato il gruppo con il ragazzo e siamo entrati in una stanza dove praticamente c'era indovina chi con tutti i fantasmi che potevano esserci quelli spoilerati sul sito ovvero c'era quella giocatore d'azzardo che aveva un semplice tavolino e sembrava uno dei personaggi di Umbrella Academy tra l'altro Klaus sembrava Klaus gli assomigliava a un botto e cioè sì infatti c'erano due ragazzine lì che si erano tipo già un po' innamorate ed era aveva solo un po' di make up si era fatto un po' di pallore sul viso niente di che e appunto recitava questa parte raccontando che aveva questo vizio di scommettere e aveva fatto una scommessa con sua sorella poi sua sorella era una scommessa un po' così pericolosa sua sorella ci ha lasciato le penne diciamo così e quindi bisognava decidere se salvarlo o condannarlo perché alla fine lui non era pentito quindi aveva per colpa sua praticamente ucciso la sorella non era pentito e continuava a scommettere quindi io non l'ho salvato scusami perché ti devo salvare se non ti sei pentito ti condanno e quindi praticamente c'era una ciotola con delle fisce e c'era tipo ciotola destra lo condanni no al contrario vabbè una ciotola lo condannavi l'altra ciotola lo salvavi però c'era ciotola rossa e ciotola nera perché c'entrava con la roulette no che c'era rosso nera dove punti puntate su rosso puntate su nero così avevano detto tipo una cosa del genere e ovviamente l'ho condannato perché cioè era il giorno di halloween si fa bene la serata vado lì a salvare i fantasmi cioè io volevo entrare lì con loro restare lì a fare il fantasma poi era tutto finto e allora poi pensavo che anche tra l'altro visto che era interattivo scritto sul sito pensavo che magari la mia decisione potesse incluire in qualche modo e c'è tante persone hanno messo salvato altre condannato alcune non hanno neanche capito e hanno messo tipo l'afficio sul tavolo a caso vabbè forse non sapevano cosa scegliere non si volevano prendere la responsabilità e tra l'altro io guardo tutto questo del tempo il fantasma negli occhi i nostri guardi ci sono anche incrociati ma non è successo nulla ma allora non mi dare delle regole se poi dopo le infrango e non succede nulla volevo svidare per vedere se capito invece niente e alla fine lui ha pescato una carta se pescava una carta rossa era salvato se pescava una carta nera sarebbe stato condannato e allora dovrò indovina cosa ha pescato alla fine una carta nera quindi è stato condannato ma cosa mi ha fatto scegliere se poi dopo andava a sorte che poi in realtà avevano deciso che era condannato ma vabbè e poi io volevo vedere invece ci hanno fatto spostare in un'altra stanza e si è sentito tipo uno sparo e si è intuito che si era sparato ma mia sorella non aveva capito niente mi ha fatto troppo ridere perché siamo usciti abbiamo sentito lo sparo mia sorella ha preso paura fa cos'è successo lei pensava tipo forse si fosse chiusa una porta di colpo una cosa così e gli ho detto ma no ma il tipo non si può dire su youtube si è sparato non so se posso dirlo e lei ha capito niente della storia troppo ridere vabbè poi dopo ci siamo trovati nell'atrio di nuovo in questo atrio bellissimo e enorme di questa villa e e ho pensato che palle però adesso io sono andata col tipo e oddio suona male nel gruppo insieme al ragazzo e chissà l'altro gruppo che cosa ha visto invece poi dopo noi siamo andate con la tipa e l'altro gruppo è andato col tipo e nella stessa stanza quindi alla fine due fantasmi e siamo andati appunto si sentiva questo pianto di questo bambino che io già mi stavo cagando nelle bracche e e poi c'era questa tipa vestita tipo una donna che è un vestito da lui un favoraggio tipo e e raccontava la storia che lei era la palia la babysitter diciamo di questo bimbo e poi si è distratta a leggere un libro e il bambino lo stava lavando il bambino s'ha negato e poi non contenta ha avvelenato anche la madre perché ha detto ormai come glielo dico che è morto il bambino per colpa mia e quindi per sistemare le cose ha avvelenato l'adre del bimbo e poi si è avvelenata anche lei per i sensi di cui ha detto top bellissimo e stavolta per decidere se condannarla o salvarla c'era uno di quei cuori di silicone di tiger che avevano dipinto un secondo fa perché poi se lo toccavi mia sorella aveva tutte le mani rosse anche io mi sono vista del rosso ho detto oddio ma mi sono perché a volte succede che diciamo che uno dei miei stimming è mangiarmi le unghie oppure fare così con le pellicine faccio così mi sono spellicinata troppo invece no perché ero tranquilla e allora mi sono accorta che avevano appena dipinto in fretta e furia si vede prima dello spettacolo sto cuore di tiger e praticamente c'era una ciotola con tutte le spille da balia e se la salvavi mettevi la spilla da balia sul tavolo altrimenti andava inserita nel cuore indovina io beh ovviamente l'ho inserita nel cuore ammazzato il bambino ammazzato la tibes ammazzata anche lei ti salvo secondo te cioè poi lo diceva senza stare impianti senza rimorsi cioè come se fosse una cosa normale colpevole devi restare lì a vita in quella casa a infestare a infestare la villa condannata e il ragazzo di mia sorella lì salvava tutti alla fine mi sembra che si sia abbiano condannato anche lei non mi ricordo neanche cos'era successo poi perché una certa era talmente noioso che continuavo a distrarmi guardando altre cose che non c'entravano a niente perché la tipa che doveva fare la youtuber non lo stava facendo sembrava lì che seguiva anche lei e diceva cose fuori luogo litigava coi fantasmi cioè in più la tipa che ha recitato faccio così perché si dimenticava le battute si sbagliava si è impampinata ho detto forse sono emozionati magari è la prima volta che fanno questo esperimento un esperimento non lo so però ho visto che appunto era stato organizzato in tante ville d'Italia quindi ho detto sembrava una cosa grossa no non una cosa che hanno fatto solo il mio paese del paesello sfigato quindi ho detto boh mi aspettavo una compagnia teatrale un po' più persone un po' più così poi finiti i fantasmi siamo arrivati di nuovo giù verso l'entrata principale dal quale non ci avevano fatti entrare dove c'è un bel portone grosso di legno e arriva diciamo la protagonista della serata che era questa sposa che era stata addetta a loro tradita dal marito uccisa non so capito neanche la storia perché non era stata sviluppata bene è stato fatto tutto velocemente c'era scritto 70 minuti però alla fine è durato 30 minuti perché appunto non cioè se me lo davano a me lo sviluppavo meglio lo faccio durare anche 3 ore volendo vabbè a parte queste cose non perché sia brava io ma perché era proprio fatto male in quel senso e comunque vabbè arriva questa sposa era vestita malissimo cioè sembrava che si fosse lanciata tipo sul dentro l'armadio e abbia preso le prime cose che le stavano appiccicate aveva sembrava una roba tipo punk è presente quei quando alle medie festeggiavi Halloween però non era una festa così che non trovavi io ai miei tempi non trovavi ancora dei vestiti e quindi si faceva il il costume da punk io l'ho fatto il costume da punk e ti mettevi delle robe a caso si truccavi un po' era i punk anfibi ed era i punk lei aveva questi anfibi neri poi sto vestito tipo con una specie di tuturosa che veniva fuori che non c'entrava niente con una sposa e poi era truccata malissimo malissimo aveva fatto la base bianca tipo del trucca bimbi un eyeliner schifoso e poi invece di farsi un bel make up cioè sono riuscita io a fare un make up abbastanza carino in dieci minuti in un video quello sai che avevo messo qua rosso e poi copiato da da tiktok eh no lei semplicemente col dito aveva fatto così con rosso fine che schifo fai a me non ha sfumato ora fai qualcosa cioè impegnati cioè ho fatto malissimo e poi aveva sta catena vera di ferro una catena vera proprio di quelle per chiudere tipo le moto sui pali tipo per non rubino ed è uscita da una porta sopra delle scale e è iniziato a sbattere la catena sui marmi sui marmi di questa scalinata antica e tra l'altro siamo entrati ci avete rotto le le bolse con mi raccomando non toccate niente non rompete niente e poi lei sbatteva questa catena vera mega pesante sui marmi cioè se lo sanno i padroni di casa non so i padroni della villa non so se verranno mai a saperlo ma sto male io per loro e poi continuavo a sbattere sta catena che ho detto se mi prende addosso io non sarò la responsabile delle mie azioni perché e continuavo a sbatterla così ma cacchio prendi una catena finta cioè ma è pericoloso ci fosse stato qualcuno di basso l'avrebbe preso in faccia tipo qualche bambino perché so che poi il giorno dopo era organizzata la stessa cosa per bambini pericolosissima sta cosa e qui ho detto poco professionale vabbè allora e poi mi dava fastidio perché urlava cioè tu lo devi mettere nel sito tu nel sito me lo devi mettere perché se ci sono persone neurodivergenti che vogliono andare lì mi devi mettere le specifiche che disclaimer ci sarà un deficiente che non sa recitare che urlerà tutto il tempo e sbatterà una catena rischiando di ucciderti cioè mettimelo nel sito ok quindi lei non sapeva recitare urlava solo delle battute e in poche parole bisognava per liberarla bisognava gridare il nome del marito che il nome del marito lo scopri nella stanza dove c'è il bambino perché dicono che il bambino lo stesso nome del marito che era Alexander io ovviamente non me lo ricordavo il ragazzo mia sorella ha volato un altro nome mi ha fatto trombolino io non volevo salvarla io volevo restare lì e godermi visto che mancava ho fatto solo mezz'ora doveva durare 70 minuti quindi ero lì così no io non salvo nessuno eh ma chi chi non salverà la sposa resterà dannato qui nella casa ok io sono rimasta lì così va bene quindi adesso cosa succede e ci hanno letteralmente buttato fuori dicendo uscite tutti uscite tutti allora io ho pensato boh siamo usciti ho pensato forse ci sarà un continuato perché c'era la porta tipo su chiusa forse voglio uno che rientriamo e succederà qualcosa allora io sono rientrata infatti tutte le altre persone mi dicevano ma scusa ma è già finito poi venivano a parlare con me perché ero truccata e pensavano magari boh facessi parte dello spettacolo non lo so mi ho fatto troppo ridere però spesso quando succedono le cose la gente viene da me e non c'entro nulla però vabbè allora io sono rientrata è arrivato il tipo mi fa tipo cazzo vuoi cioè cosa vuoi faccio dobbiamo rientrare fare delle cose fa no no è finito qua faccio come è finito qua sul sito c'è scritto 70 minuti è passata mezz'oretta fa no c'è scritto 60 minuti vabbè comunque mezz'oretta non è 60 minuti sono 30 minuti no ma è finito e mi ha chiuso la porta in faccia quindi era una truffa non ho capito perché mi sono venuti molti pensieri ho detto allora oh è successo qualcosa che è andato a store durante questa esibizione e quindi ci hanno mandato fuori per sistemare era una due era una compagnia intanto erano tre persone quattro persone tutto erano no cinque per spetta il bambino era finto sembrava una reborn era la parte più paurosa tutta la serata è stata la bambola che era ferma e non faceva niente si sentivano solo cinque persone totali era tipo una compagnia teatrale tra virgolette perché erano cinque persone che stava provando come esperimento a fare questa esibizione per vedere poi magari anche di svilupparlo nei prossimi anni oppure era una truffa però ho pensato ma se è una truffa non vanno prima solo a vendere i biglietti poi non presentarsi perché presentarsi puoi fare uno spettacolo brutto cioè allora tanto vale fallo bello cioè nel senso se devi perdere il tempo di comunque fare uno spettacolo tanto vale che lo fai bello cioè no nella mia testa quindi non dovrebbe essere una truffa se si sono prestati e che erano incapaci loro non lo so quindi non lo so tutti siamo andati via un po' così straniti perché appunto anche altre persone dicevano ma dovevano essere 70 minuti che strano quella e poi io vabbè ho archiviato l'esperienza peccato perché con il sonno di poi avrei potuto fare io più intrattenimento e sarebbe divento cioè io volevo contattarli per scrivere delle idee a riguardo perché avevo un sacco di idee come sviluppare meglio la storia anche lei che doveva essere la youtuber sarebbe stato bello che avesse avuto in mano un telefono magari o una videocamera qualcosa e avesse finto di fare in quel momento il video insieme a noi invece non è successo nulla di tutto ciò avrei messo delle casse bluetooth in giro per le varie stanze con dei suoni un po' alla Alan Wake no? dei suoni un po' horror delle voci delle cose no? degli scricchioli cose del genere che si sentivano ogni tanto poi avrei messo un po' di decorazioni se era permesso ovviamente magari non era permesso perché era pericoloso mettere delle candele si possono mettere anche quelle finte o anche qualcos'altro magari lì non so se è stata una cosa magari non voluta dal proprietario della villa non lo so però qualcosina si poteva fare secondo me poi avrei sviluppato di più la storia magari non mettere solo tre fantasmi oppure due fantasmi sì tre e avrei truccato tutti meglio e avrei messo la sposa un po' più carina era una sposa orribile e soprattutto avrei specificato che ci sarebbero state delle urla perché un conto è dei rumori così che danno atmosfera un conto è stato efficiente che ti urla in faccia recitando di me poi appunto ho cercato informazioni ma non ho trovato niente non ho trovato email poi non ho avuto neanche tempo in realtà quindi ho accantonato sta cosa perché avevo altri pensieri non volevo pensare a a questa cosa avevo altri pensieri più importanti ho detto vabbè dai non rimuciniamo ci pazienza si arrangiano insomma se non sono riusciti si organizzeranno meglio il prossimo anno e poi invece ho visto mi hanno mandato degli screen perché io non ho facebook che sulla pagina di se sei di e c'è il paese del mio paese le persone si sono lamentate di questa cosa soprattutto perché se non ho capito male hanno fatto solo il primo turno gli altri turni anche quelli del giorno dopo non si sono presentati e hanno non hanno rimborsato i biglietti bensì si sono tenuti i soldi e hanno rimborsato tra virgolette con un ticket che non probabilmente utilizzeranno mai le persone solo che c'erano persone che giustamente si lamentavano perché avevano acquistato tipo sei biglietti per tutti i figli così no o perché c'era acquisto di gruppo no e quindi vabbè io ci ho perso solo 15 euro che comunque io però l'esperienza l'ho avuta anche se solo di mezz'ora però comunque io ho visto qualcosa invece quelli che non hanno proprio visto niente quello si che è una trufa però perché perdere tempo nel fare anche male la recitazione non presentarti direttamente cioè non ha senso sta roba nella mia testa ma poi se sei in buona fede e non è una trufa avrebbero dovuto rimborsare quindi capito ci sono queste situazioni che non mi quadrano ecco tu cosa ne pensi creatura ovviamente fammelo sapere nei commenti ti sarai già attormentata al ciao creatura iniziale ma non importa e come sempre ti auguro buonanotte buon relax ciao creatura ciao 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 ciao